Mi manichiarico presidente di Casa Artigiani Taranto, perbacco che Taranto questa manifestazione in Piazza Immacolata ha destato numerose polemiche, Casa Artigiani ha fatto sentire la propria voce. Le ragioni del vostro dissenso? Noi non siamo d'accordo in queste manifestazioni, magari ne venissero una ogni giorno, creerebbe anche molta attività e vita alla città. Sono le modalità con cui vengono autorizzate e svolte queste manifestazioni a danno delle attività che effettivamente sono sul territorio, che pagano le tasse, che vengono controllate e che rispettano le norme igienico-sanitarie. Io, ripeto, non abbiamo nulla contro l'imprenditore e organizzatore di questo evento, però quello che noi chiediamo è che il Comune di Taranto non deve dimenticare che ha sul territorio delle associazioni datoriali, che quindi deve sentire, ascoltare, programmare. Noi abbiamo bisogno di programmare e se questo evento, che se noi adesso andiamo a vedere dalle bracci che ardono e che sono comunque, non sono a regola, perché non sono a regola... Secondo Rubino sì. Va bene, secondo Rubino senza dubbio sarà in regola, poi lo vedremo. Allora mancano i servizi pubblici, i servizi sanitari, quelli che comunque sono previsti, non ci sono. Stando a quanto dice Rubino, l'amministrazione comunale di Taranto ha rifiutato i bagni chimici che Rubino metteva a disposizione, stando a quello che dice l'organizzatore. E questo poi sarà chiaramente dimostrato. C'è l'intervista che farà fede di quanto sto dicendo, l'intervista a Rubino. Certamente, se lui dice così, che gli hanno detto così, senza dubbio sarà vero, però adesso chi ne risponderà di tutta questa situazione? Una cosa è certa, che chiaramente le attività produttive del territorio, e vedi che questo è il salotto di Taranto, non sono state interpellate. E voglio capire che questi eventi dove vengono, prendono i soldi e vanno via e poi lasciano il danno a Taranto, vedi anche nell'ambito della pulizia e tutto il resto. Allora, se dobbiamo rispettare le regole, dovevano fare tutto. E questo da dove avviene? Che il Comune di Taranto deve imparare a applicare i regolamenti. Se i regolamenti valgono per le attività che sono a Taranto e che pagano tutti e vengono controllate, la stessa cosa devono essere per questi eventi.